3 2 1 e ben ritrovati su adc live giovedì in diretta alle 15 con l'inquadratura un po più stretta del solito ma tanto presto la cambieremo e vi devo dare il benvenuto anche logonauti perché questa è la settimana del lancio del nostro nuovo corso di comunicazione e argomentazione con quel pazzo furioso di rick duferri corso stanno andando alla grande abbiamo sono stati già invasi da 130 logonauti una cosa del genere in pochissimi giorni quindi c'è stata un'invasione stanno andando veramente alla grande e partendo proprio dall'idea di comunicazione c'è venuta un'idea perché non parlare degli errori comunicativi degli studenti delle cose che gli studenti possono migliorare dal punto di vista comunicativo agli esami nella tesi nella vita di tutti i giorni ma di farlo da un punto di vista un po alternativo perché di retorica e di comunicazione vera e propria parliamo in logonauti parliamo con rick duferri ne abbiamo parlato ne parleremo in altri video ma possiamo avere un altro punto di vista sulla comunicazione un punto di vista psicologico e allora il ritorno di alessandro bartoletti sul nostro finale grazie grazie di essere tornato ancora una volta ecco che bello possiamo parlare di comunicazione da un punto di vista un po diverso un punto di vista strategico psicologico cosa 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 ne dici di questo argomento la comunicazione è lo strumento principe degli psicologi e quindi da questo punto di vista mi cogli preparato ma anche al tempo stesso incuriosito perché ho dato subito un'occhiata appena ho visto l'uscita di logonauti ho detto accidenti questo corso è fatto veramente in modo professionale come non capita spesso di vedere quindi non avevo dubbi collaborando con te già da un po e vabbè tra l'altro tra l'altro visto che stiamo facendo il momento marchetta la settimana prossima adesso non sono l'unico che lancia un corso potremmo dire così no c'è c'è il primo corso da solista nel stato martoletti poi ne parliamo perché bombissima ma un corso che più utile di così si muore e infatti faremo faremo veramente prima ancora live speciale in cui ne parleremo la settimana prossima perché ci tengo a lanciarlo anche di fronte alla mia community perché ne vale la pena chiudiamo il momento marchetta che quello riprendiamo lo ripreschiamo più avanti e prima mentre eravamo preparando stavamo preparando la diretta mi ha detto di esserti preparato degli errori comunicativi degli studenti allora mi ha incuriosito perché vorrei sapere cosa sbagliano gli studenti quando comunicano si dicevi parliamo di comunicazione da un punto di vista studentesco non possiamo non parlare dei cinque errori comunicativi più frequenti degli studenti ovviamente da una definizione un pochino psicologica non tanto tecnico retorica argomentativa ma proprio psicologica il primo errore quello più frequente di tutti che vediamo continuamente è non dare nessun tipo di importanza al proprio modo di comunicare ok chiaro un'assenza di interesse nella comunicazione esatto una vera e propria squalifica per cui conta solamente quello che so conta unicamente come lo so devo studiare mi devo focalizzare sullo studio fare un esame vuol dire essere preparati e quindi il modo di comunicare la retorica non conta la retorica è intesa come arte del saper comunicare in modo efficace tutto questo ovviamente parte anche l'abbiamo detto tante volte lo ripetiamo da questa cultura tutta italica che ha poca attenzione alla comunicazione sembra che sia una skill una soft skill di nessuna importanza oppure quando la dà lo si fa in un modo fuffaguresco noi siamo ormai affetti da gurismo di massa gurismo di massa sì 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 esatto quindi ne parlano i comunicatori comunicatori che molto spesso non sono altro che appunto persone praticone improvvisate mentre dovrebbe essere una disciplina l'arte del saper comunicare bene insegnata a scuola certo e sappiamo che anche questo non è per cui diciamo questo primo errore è abbastanza endemico ora qual è il punto psicologico sull'idea che non conta il modo in cui comunico è come ci ricordava un grandissimo psicologo degli anni settanta paul vatslavix uno dei primi assiomi della comunicazione umana è non si può non comunicare palo alto è una signora di assiomi di palo alto maledizione grande classico veramente assoluto un classico assoluto che ci ricorda come qualsiasi nostro gesto qualsiasi nostra espressione è comunque una forma di comunicazione quindi il comunicare non passa attraverso il linguaggio la proposizione la forma ok ma qualsiasi nostra interazione è già una forma di comunicazione quindi da questo deriva non possiamo sottrarci non possiamo non possiamo dire no io non voglio non è possibile e anche la sottrazione anche la sottrazione è un messaggio esatto quindi paul vatslavix ricorda un aneddoto era in aereo e parlando con o meglio sedendosi vicino a una persona che evidentemente voleva voleva parlare raccontare raccontare di sé ho un mal di testa ecco e quindi iniziò a simulare un sintomo anche negare la comunicazione è una forma di comunicazione anche simulare un sintomo è una forma di comunicazione quindi qualsiasi cosa noi facciamo non possiamo esimerci da questa regola da questo assioma ne deriva che è importante per qualsiasi studente prestare anche attenzione una consapevolezza operativa al suo modo di esprimersi che appunto ripeto non deve poi diventare una ricerca eccessiva o artistica certo o istrionica no no va semplicemente prestato attenzione al fatto che noi nel modo di comunicare passiamo dei messaggi e quindi se sono preparato e comunico in un certo modo passerà un certo tipo messaggio se non do nessuna attenzione al mio modo di comunicare ne passerà un altro spesso ne passerà un altro ma ti faccio una domanda ma quindi quello che dobbiamo fare una domanda provocatoria che così bene piace sai dire ma quindi noi dobbiamo seguire il professore agli esami mi piacciono le domande provocatorie dobbiamo intortare dobbiamo essere bravi a parlare per circuire è questo è questo il punto il senso dobbiamo imparare a venderci in maniera anche un po così al borderline potremmo dire così allora qui mi fai venire in mente un antesignano del fuffagurismo testo che è rimasto nella storia del del gurismo comunicativo di questo tipo e il titolo è 30 e lode senza studiare è un grandissimo testo un testo di un'importanza capitale oseremo dire da bacio accademico il punto è che questo testo che insomma invito tutti a leggere non fosse altro per una delle due non fosse altro per passare qualche minuto di divertimento ok si spiega in modo molto serio e solido l'arte del non studiare presentarsi all'esame attraverso tutta una serie di tecniche comunicative quindi di inganni di strategie manipolatorie ti guardo in certo modo ti parlo in certo modo inizio a fare io una domanda al professore ok metto lo sguardo in una certa direzione per comunicarti che insomma tutta un'arte della nefandizza per ottenere obiettivi senza averne nessun merito viene spiegata in questo testo puntualmente ecco ma funziona no ovviamente però in tante persone cioè funziona per arricchire chi poi vende queste ricette miracolose alla kikapu syrup è certo magico che si vendeva nell'ottocento americano e che faceva credere che ti avrebbe salvato da qualsiasi malanno ecco certo comunicazioni di questo tipo ti fanno credere c'è da dire una cosa voglio spezzare una cioè incredibile che io voglia spezzare una lancia a favore di questa gente però una lancia la voglio spezzare è vero che esistono professori che ascoltano con un orecchio sì un orecchio no i propri i propri studenti superficiali e effettivamente una persona che si mostra sicura di sé che ha un modo di parlare curato eccetera eccetera può occasionalmente portarsi a casa un voto più alto di quello che meriterebbe questo è la realtà è vero questo è la realtà succede succede e ma non ha nulla a che vedere con l'idea che solo attraverso ok anzi questo è ciò che poi tu e eric trattate nel corso cioè l'arte del saper comunicare a diversi livelli un livello verbale un livello non verbale un livello paraverbale certo proprio perché non possiamo non comunicare se noi non teniamo ben presente questa consapevolezza operativa e quindi non prestiamo attenzione non cerchiamo anche di lavorarci per migliorarci è quello che passa a che vedere con gli altri errori che mi sono anche perché è una cosa a cui su cui ragionavo quando mai riportato alla mente gli assomi di palo alto che non studiavo dall'esame di psicologia della comunicazione ormai da un bel po di anni però me li tatuarsi gli assomi di palo alto però mi ha fatto venire in mente che lo potremmo anche declinare in un altro modo se è vero che non possiamo non comunicare è anche vero che se noi non stiamo non siamo padroni di ciò che stiamo comunicando rischiamo di comunicare una cosa completamente fuori dal nostro controllo cioè siamo completamente inconsapevoli quindi chissà cosa comunichiamo se non lo stiamo studiando il messaggio che mandiamo è randomico e magari quel messaggio non è coerente con quello che è il nostro obiettivo e in quel caso succede un disastro mi hai anticipato perché da questo primo errore derivano poi queste modalità distorte di comunicare ovvero cosa comunica uno studente che non presta attenzione alla propria comunicazione rischia di comunicare o paura o rassegnazione assi c'è altro la rassegnazione è terribile perché l'insegnante è come lo squalo che vede che fiuta le gocce di sangue a chilometri di distanza dell'acqua cioè la rassegnazione che cos'è che cosa che messaggio mandi quando sei rassegnato mandi un messaggio di una persona che non solo è impreparata non solo sa di essere impreparata si è già messa via il fatto che verrà bocciata o prenderà un brutto voto e se presentato lo stesso quindi pure stronza cioè mandi una serie di messaggi negativi terribili perché se hai la paura non è una buona cosa perché potrebbe essere interpretata come paura del fatto che non sei preparato preparata ma la rassegnazione porta a cascata tutta una serie di messaggi veramente veramente fastidiosi e allora se sei se sai già che non hai studiato cosa ci fai qui rischi anche di far incavolare le persone no quindi è esatto e la rassegnazione è la sorella minore della paura perché comunque lì parte comunque si parte io ho avuto decine e decine di studenti che venivano intrappolati in questo copione iniziavano a fare un esame magari rispondevano a una domanda dopo un po' magari si bloccavano oppure venivano colti un po' in difficoltà su un certo argomento immediatamente questo li portava a gettare la spuglia a rassegnarsi a comunicare rassegnazione perché perché ho sbagliato non potrò più prendere un voto al quindi sbagliato il professore pensa di non che io non sia preparato quindi ok e finisce lì e finisce lì finisce lì nel senso che poi da lì a breve è un bagno di sangue se non ho il controllo della mia comunicazione se non ho consapevolezza di quello che comunico e inizio a comunicare rassegnazione l'esame me lo gioco per quel 50 per cento che rimane mi auto decapito il terzo errore è comunicare invece paura questo è l'errore se vogliamo anche più più frequente perché è una modalità comunicativa che noi vediamo non solo durante gli esami ma anche prima è una vera e propria tentata soluzione il nostro videocorso come sbloccarti studente strategico non ve lo dimenticate perché è bello e logonauti tutto quello che volete però se siete bloccati come studenti è studente strategico la soluzione è una delle tentate soluzioni tipiche dello studente impaurito terrorizzato è proprio quello di comunicare continuamente la sua ansia la sua spargela in giro e questa è una tentata soluzione disfunzionale perché quando noi comuniciamo la nostra paura la amplifichiamo però paradossalmente mi ricordo che un consiglio che tu avevi dato allo studente ansioso all'esame era anche di ammetterla la sua ansia si sai ammettere l'ansia è diverso dal spargere l'ansia cioè qual è la differenza psicologica e comunicativa a questo punto allora una differenza di timing perché questo stratagemma del comunicare retoricamente il fatto che io sono in ansia durante o all'inizio subito all'inizio di un esame va a interrompere un altro circolo vizioso normalmente e qui mi fai anticipare un altro errore comunicativo normalmente lo studente molto molto ansioso per la prova d'esame nasconde cerca di nascondere i segnali della propria agitazione della propria tensione ok quindi è tutto impegnato in questa lotta interiore del non devo farmi vedere agitato non devo farmi vedere vulnerabile non devo far vedere una minima incrinatura devo essere impeccabile perfetto non devo sudare e quindi lotta con se stesso e questa è una lotta in prima e infatti puntualmente più si cerca di auto contenerci di auto reprimerci e più esce sudore da tutti i pori esce tremore da tutti gli arti perché non è possibile oltre una certa soglia reprimere le proprie sensazioni tra l'altro si rischia di attirare anche l'attenzione su quelle cose cioè il classico esempio della persona che si macchia su una persona che vuole nascondere la macchia e tentando di nascondere la macchia fai vedere la macchia perché poi è così no più nascondi più mostri esatto eh sì eh sì ale è esattamente così il disastro c'è proprio essere un po più fluidi c'è la macchia tra l'altro se tu studi tutti i più grandi oratori nel mondo dello spettacolo della della politica o manageriale in generale nessuno fa questo errore tutti comunicano espressività quindi tutti incanalano l'ansia in una qualche forma di espressività l'oratore ingessato è un oratore che non riesce a parlare certo e fanno anche mostrano anche le proprie debolezze no mostrano anche il fatto di avere dei punti deboli esatto e allora lo stratagemma in questione che hai citato è proprio questo è dichiarare il perturbante segreto l'esempio è immagina di avere all'inizio di un esame sotto l'ascella un termometro lo tieni lì è il termometro della tua ansia se supera una certa temperatura allora dovrai comunicare in modo carino quindi non svilente in modo carino il fatto che sa professore ho studiato molto questo esame ci tengo molto quindi mi perdoni se sono un po' in tensione piano piano mi calmo ora comunicare questa cosa è un modo per uscire da quella lotta impari con se stessi ok quindi è una comunicazione di tutt'altro tipo è una vera e propria è un vero e proprio anche artificio retorico comunicativo che mette l'altro in una condizione protettiva ok e quindi produce tutta una serie di effetti positivi in primis su se stessi ci fa uscire da quel circolo vizioso del devo reprimermi devo reprimermi che poi chiunque si medesima chi non si medesima in una situazione del genere certo certo sai che cosa mi hai fatto venire in mente adesso ti caccio un un esempio che non ti potrei cioè non ti potrei aspettare senti che che perla di cultura ti caccio parliamo di eight mile film leggendario con la storia di eminem come finisce eight mile finisce con la battaglia rap definitiva per loro fanno questo freestyle rap dove si si massacra una vicenda e il problema del personaggio interpretato da eminem che poi interpreta una versione di se stesso in realtà è in ansia perché perché è fuori luogo e fuori posto rispetto a questi gangster del ghetto esperti rapper no e come vince il suo rap finale vince prendendo il microfono e dicendo sì c'hai ragione io vivo con mia madre vivo in una roulotte sono bianco non ci sto niente a fare con non ho niente a che vedere con te sono uno sfigato non ho una ragazza e poi gli dai il microfono il senso di racconta a questa gente qualcosa che non sanno già di me e l'altro non sa più cosa dire e gli anticipa gli toglie lo disarma completamente gli toglie tutto e quindi usa il rap per in realtà mostrare tutte le sue debolezze tutte le sue inadeguatezze e stravince naturalmente perché quell'altro non sa più cosa dire e se ne va sono riuscito partendo dalla psicologia strategica ad arrivare a eminem adesso c'è veramente questa è ebbè ma è una bella analogia rende proprio l'idea rende proprio l'idea è il disarmarsi che ti rende più forte esatto esatto quindi ora però questo funziona in queste situazioni appunto che sono poi quelle più più critiche il momento stesso mentre nel resto del tempo il silenzio è la forma di controllo più efficace che noi possiamo avere nei confronti della nostra ansia della nostra paura e quindi l'errore di cui parlavamo all'inizio cioè comunicare la propria ansia è un errore capitale perché produce un effetto a cascata opposto più gridiamo il nostro grido allarme più il grido allarme allarma noi stessi come mettere un fertilizzante speciale su una pianta come lanciare un urlo in una caverna e l'eco diventa infinito quindi comunicare la nostra ansia una tentata soluzione però questo l'ho capito molto bene però visto che stiamo parlando di comunicazione vorrei chiederti non comunicare agli altri la propria ansia e cioè non non gridarla non esplicitare il nostro grido d'allarme come hai appena detto tu equivale a far finta di non essere ansiosi cioè qual è il messaggio a livello comunicativo che noi dobbiamo lanciare dobbiamo lanciare un messaggio del no sono tranquillo sto benissimo oppure semplicemente dobbiamo farci cavoli nostri cioè qual è il livello comunicativo adeguato per l'ansia tutto bene ok lo sto gestendo c'è la giusta tensione poi se dentro sento una foresta pluviale amazzonica pruricare ok la gestirò con altri strumenti ma sempre in modo personale nel momento in cui io quella foresta inizio a vomitarla fuori sì sono in ansia perché questo esame mi spaventa molto non so se ce la farò speriamo di farcela o di non farcela questo è un modo per amplificare tra l'altro noi se se interpretiamo la comunicazione come il trasferimento di un messaggio tra una persona e l'altra stiamo facendo anche un grande dispetto a qualcun altro perché se il messaggio è emotivamente connotato noi come creature empatiche quando riceviamo quel messaggio non possiamo fare a meno di almeno in parte assorbirne il contenuto emotivo quindi se tu lanci a qualcun altro un pacchetto pieno di ansia bene non gli faccia rischi che l'altra persona se anche anch'essa ha delle difficoltà di ansia se le veda amplificate anche di ritorno cioè gli arriva ansia da fuori e ti viene ancora più tant'è che le conversazioni più deleterie io personalmente le evitavo come la peste erano le come conversazioni prima degli esami fuori dalla dall'aula del professore si io io cuffie perché questo ha sentito che ha chiesto questo ha detto quella ma no e quella quella cosa monta e se tutti impazziscono quello è un modo per farsi vedere un attacco di panico prima di un esame è esatto dall'aula dovremmo proprio certificarlo ok se qual è il modo certificato per farsi vedere un attacco di panico mettiti fuori dall'aula con i parlare esaminanti e inizia a dire oddio come sono agitato ma tu come senti ma tu come non ti senti ma secondo te ci chiede questo è qualcuno avrà un attacco di panico ok non dite che l'ha prescritto uno psicologo per favore è la controprova sì sì no è veramente è veramente terribile e tra l'altro a quindi a me a me interessa sempre questo che la comunicazione è incredibile per me la fascina veramente tantissimo proprio perché non è solo qualche cosa che esce da te ma anche qualcosa che colpisce gli altri e che ha un effetto nel tuo campo immagino c'è lo psicologo proprio usa le proprie parole e tutti gli aspetti paraverbali non verbali io ricordo che tu fai un lavoro sul tono della voce sul ritmo della voce in particolare che sono veramente importantissimi però per far ottenere poi un effetto in un'altra persona quindi è come un po come se fossimo non lo so charles xavier degli x men riusciamo a indurre emozioni negli altri o emozioni o ragionamenti con la comunicazione quindi è veramente un'arma potentissima e usarla in maniera inconsapevole sì è una magia davvero è una magia se ne andiamo per scontata ma è una magia che abbiamo tutti a disposizione poi a seconda del mestiere che facciamo possiamo o meno utilizzarla con degli obiettivi io personalmente professionalmente mio obiettivo è indirizzarla in modo terapeutico perché il mio modo di comunicare serve ad aiutare una persona magari a superare una fobia o a smontare un'ossessione o a cambiare un comportamento che fa soffrire e ovviamente per farlo devo lavorare con tutti gli strumenti della comunicazione non basta pensare di dire no non fare più questa cosa fai quest'altro funziona una cosa che ho notato sentito di parlare facendo un videocorso insieme eccetera è che un elemento tipico della tua voce è proprio la pacatezza e credo che questo sia importante 666 rassicurante in qualche modo non hai un tono non comunichi io spesso parlo tanto velocemente nevrotico invece tu sei pacato misurato ogni parola è soppesata e questo ha un effetto anche tranquillizzante non ai confronti delle persone che possono ascoltarti che magari arrivano con dei problemi o delle difficoltà da superare ci sono sicuramente delle dinamiche comunicative che tutti gli psicologi devono poter utilizzare di base perché il tipo di rapporto è un rapporto d'aiuto e quindi è ovvio che l'accoglimento l'accoglienza la pacatezza è una dinamica comunicativa molto importante nel trasmettere delle percezioni dei concetti dei consigli delle indicazioni ma a volte non serve la pacatezza a volte l'esuberanza ok in cui vuoi far descrivere vuoi descrivere un certo comportamento e connotarlo in un modo avversivo perché devi far sentire che se continui in quella direzione peggiori peggiori quindi devi creare un'iperbole comunicativa devi far sentire che facendo così si va sull'orlo del precipizio e se non cambi quindi bisogna saper modulare la comunicazione in funzione dell'obiettivo terapeutico nel mio caso che vuoi raggiungere ma e se invece togliamo dalla terapia scusami se vado un po abbraccio ma c'ho una serie di domande se togliamo l'obiettivo tu hai l'obiettivo terapeutico e quindi hai il tuo set di comunicazione lo studente che fondamentalmente vuole comunicare una cosa preparazione competenza qual è il registro comunicativo della persona competente cioè ecco come si comunica competenza e preparazione a qualcun altro quali sono gli i tipi di comunicazione che funzionano meglio in questo in questo senso allora detta così è un po calda descrivere troppo ampia ok a me vengono in mente alcuni principi in cui io voglio comunicare competenza ovviamente voglio comunicare anche una certa determinazione di quello che ho imparato e comunicare determinazione vuol dire comunicare anche molta chiarezza eh sì questo è importantissimo ok poi comunicare determinazione vuol dire anche comunicare calma perché non ho la fretta del dirti tutto 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 con l'ansia che devo ottenere un voto e se non mi valuti bene magari pensi che io non abbia studiato tutto allora devo comunicarti tutto 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 no ti comunico quello che è importante poi ehm di pano l'argomento inizio a entrare un po' più nel merito poi professore se vuole sapere anche in questa direzione aggiungiamo in questa direzione cioè eh la determinazione è in fondo eh se vogliamo l'ultimo effetto di una competenza acquisita cioè di una conoscenza aver studiato bene ci permette ci fa sentire sicuri e quindi determinati proprio perché padroneggiamo quella cosa certo e sì naturalmente si può fingerla fino a un certo punto cioè ce la devi avere davvero quella dipende c'è chi ha scritto libri tipo trenta e lode senza studiare per finire quindi certo 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 c'è chi comunica compete però a mio avviso soprattutto una persona che è allenata ad ascoltare persone parlare a valutarne la competenza poi ci sono anche i professori incapaci e su questo abbiamo speso già molte parole però non è facile fregare uno che di mestiere deve valuta ascolta migliaia di studenti deve valutare se sono preparati cioè magari ti va di culo una volta però ma guarda potremmo usare una metafora attuale data parecchio tempo ok ci sono i falsi positivi e i falsi negativi ok allora il falso positivo è difficile c'è una persona incompetente il ragazzo incompetente lo studente incompetente difficilmente diventa un falso positivo difficilmente riesce a prendere un trenta e lode senza studiare molto difficile è pieno di falsi negativi cioè studenti che annullano annichiliscono la loro performance per paura e quindi si bloccano che non riescono a esprimersi bene quindi balbettano e quindi vanno in confusione mentale e dall'altra parte il messaggio che arriva ma ci rivediamo a settembre ok quindi è pieno di falsi negativi sono pochissimi e rarissimi quelli positivi quindi purtroppo mandare in vacca un esame è facile recuperare scalare la montagna ecco dice c'è andrea in chat che dice io ho passato vari esami senza sapere molto solo parlando di cose tra l'altro c'è anche una cosa importante da dire rispondendo ad andrea anche a me è capitato di fare un po così la la il pippone al professore dipende anche molto dalle materie ma certo più la materia cioè è una funzione di due cose secondo me da un lato la passione che hai per la materia dall'altro la tipologia di materia ne parlavo con angelo sommobutta è un'altro un altro youtuber che è laureato in storia e raccontava il suo non metro di studio e se lo ascolti superficialmente pensi ma questo qui è un matto perché lui non studiava arrivava leggeva il giorno prima il libro e andava lezione e tu e andava prendeva 30 e tu sentendo raccontare così dici questo era un ma se poi ascolti davvero che cosa dice lui poi ti racconta che tutti gli altri giorni però lui era un invasato di storia di cui passava le sue giornate a studiare storia senza per cavoli suoi perché ne sapeva un sacco su altri testi su altri testi per cui capito sì è vero quel libro lì aveva letto il giorno prima però era stato attentissimo a lezione per chi interessava era andato dai professori a chiacchierare perché gli interessava studia la storia dalla mattina alla sera era più facile con le materie umanistiche e con le materie di cui sei appassionato quindi la combo di materie discorsive e passione permettono di raccontarsela un po di più se devi passare un esame di non lo so meccatronica se non sei preparato c'hai poco da così da articolare il discorso ecco insomma quindi spesso succede con le materie si no è un falso mito questo ok si pensa che parlando io riesco a intortare la competenza non si inventa ci sono ovviamente materie più discorsive dove anche il lato se vogliamo interpretativo ermeneutico la mia opinione può contare può contare di più ma se io non maneggio quei concetti di base la mia opinione la posso dare dico delle vacate basta esatto esatto ok è una persona competente dall'altra parte se ne accorgi mi presero tanto in giro perché adesso ci sono gli orali siamo in un periodo degli orali della maturità si ricorda i miei compagni preso molto in giro perché durante l'esame di maturità all'orale presi massimo dei voti e raccontai per un buon dieci minuti raccontai di un documentario che avevo visto dopo aver ricevuto una domanda una domanda sui vulcani mi ricordo persone di scienze raccontare di questo documentario che avevo visto sul rapporto tra le eruzioni vulcaniche e l'influsso gravitazionale della luna e il professore fu entusiasta il piaccio un sacco imprendevano in giro che ha intortato il professore però io il documentario l'avevo visto davvero le cose che avevo detto non erano sbagliate erano corrette per cui è vero avevo chiacchierato col professore di vulcani e della luna però non avevo detto delle cazzate ho detto delle cose giuste per cui si eri già un antesignano del web io no era avevo visto su proprio per caso una settimana prima su sky un documentario di national geografica che parlava di quella roba lì ho preso la palla al balzo cominciato a raccontare sto documentario ho fatto bella figura però non ho detto delle stupidaggini perché se tu dici delle stupidaggini puoi chiacchierare quanto vuoi però poi il professore la professoressa accorge quindi ragazzi alla maturità mi raccomando non non diciamo non diciamo delle fesserie ecco poi ci sono le eccezioni in tutto appunto sono rari i falsi positivi non vuol dire che non esistano ma senti ma in chat dicevano un'altra cosa interessante c'erano anche professori che non sanno comunicare come 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 mettiamo con la tecnica comunicativa di chi deve veicolare delle informazioni perché è una cosa completamente diversa l'insegnamento è un arte retorica a parte no e come come mettiamo non è facile è un è veramente un argomento complesso e qui subentra una critica istituzionale cioè nella nostra istituzione scolastica non non è previsto questo tipo di skill non è previsto di dare tanta importanza alla capacità comunicativa degli insegnanti non vengono addestrati a questo si pensa che la loro competenza sia una competenza unicamente contenutistica conosco quella materia quindi ergo sono in grado di insegnarla devi essere in grado di insegnarla ma le due cose sono completamente scollegate conoscere un qualcosa e anche sicuramente averlo assorbito a un certo livello specialistico una laurea in in lettere in matematica in storia in biologia in qualsiasi materia non dà nessuna garanzia che poi io sia un bravo comunicatore perché la pedagogia è questo è l'arte del saper comunicare a qualcun altro trasmettere un sapere e farlo evocando piacere ci si dimentica l'antico principio latino del ludendo intelligo che di fondo il modo il canale più efficace per trasmettere qualche cosa quindi tra l'altro è sotto gli occhi di tutti cioè quante informazioni noi incameriamo con le cose che ci divertono rispetto a quante ne incameriamo forzatamente per la scuola università è imparagonabile e io mi sorprendo sempre faccio sempre questo esempio perché mi veramente mi ho lavorato con tanti prima di cominciare il mio lavoro con sul web ho lavorato con veramente centinaia di ragazzini facevo le ripetizioni di metodo di studio e ragazzini delle scuole superiori tendenzialmente ne ho fatti veramente tantissimi ragazzini ragazzine ed incredibile era vedere che questi che ti dicevano ma io non so studiare e poi sapevano tutto di calcio tutto si ricordavano tutte le formazioni tutti i giocatori nomi dei giocatori a memoria in che posizione giocano i tipi di schemi e in che a e in che anno sono entrati nella squadra insomma ma tu sei capace di incamerare una quanti quindi tu mi dice ma io non sono portato per studiare come non sei portato per studiare tu studi un casino solo che studi il calcio invece di studiare la matematica però la quantità di informazioni che erano in grado di assorbire senza studiare in maniera strutturata la cosa interessante è che quando c'è illudendo quando c'è l'aspetto ludico l'aspetto di gioco l'aspetto di passione eccetera anche il metodo di studio in realtà è meno importante non vuol dire che non sia importante perché comunque soprattutto quando c'è un conto imparare le formazioni un conto del libro nei 500 pagine i metodi studio ci vuole lo stesso però puoi essere anche più leggero dal punto di vista tecnico perché in realtà le informazioni il cervello proprio le registra con molto meno attrito molto meno perché entrano proprio scivolano ci sono dentro e questo è incredibilmente efficace quindi ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti eppure tra l'altro mi fa mi fa morire perché in italia abbiamo questa resistenza fortissima sulle materie umanistiche no se tu senti parlare gran professoroni filosofoni gallimbertoni e gente così io devo io devo sempre fare il dissing a gallimberti perché niente non mi sta per niente simpatico non c'è già posso fare se di parlare parlano di quanto la tecnica e la scienza siano qualche cosa di appunto che imbruttisce l'animo umano e che invece l'umanesimo e vabbè io non sono d'accordo però in italia c'è questa idea diffusa intellettuale che l'umanesimo sia eppure paradossalmente uno dei frutti più belli e importanti proprio del mondo umanista è la capacità espositiva la capacità comunicativa la capacità retorica argomentativa eppure quella non la cioè vogliamo fare una scuola umanista e allora però che almeno i professori sappiano essere dei retori perché sennò che che umanesimo stiamo facendo non lo so perché manca l'aspetto più importante dell'umanesimo che la capacità proprio comunicativa di scrittura di parola una roba li manca si manca e ripeto è molto collegata con il modo con cui viene selezionata la classe insegnante e quindi la cultura della pedagogia che viene poi trasmessa agli insegnanti c'è un aspetto non verbale molto interessante da osservare se tu prendi a paragone un tipico insegnante inglese o nord europeo è un tipico insegnante italiano e li vedi agire così a caso è come immaginiamo un esperimento mentale ok prendiamo 100 insegnanti italiani 100 insegnanti inglesi o nord europei li vedi in classe come interagiscono appare subito evidente un comportamento non verbale potentissimo sai qual è non ne ho la minima idea sorridono a c'è una trasmissione di passione molto molto più frequente mentre si lavora e questo è un dato antropologico quindi ok a chi capita fateci caso perché andiamo a vedere come vengono selezionati in inghilterra un insegnante non viene selezionato sulla sua materia no assurdo io non sai che non conosco il processo di selezione veramente nel mondo anglosassone non non conosco nulla del concorsi come fanno a selezionare gli insegnanti restano restano i migliori ma perché sono le persone più motivate ok c'è una selezione su base molto vocazionale motivazionale e non solo sulla materia quella è lo skill successivo e stessa identica cosa nel mondo nord europeo questo dato non verbale ed osservazione veramente potente cioè si vede come la persona preparata ma formata selezionata per fare quel tipo di mestiere trasmette passione ok ora fate il calcolo di quanti insegnanti di liceo avete mai visto avete mai visto trasmettere tutta questa passione molto spesso ma il contrario non è così scontato ce ne sono eh di appassionati meno male ma dovrebbero essere tutti così dovrebbe essere una scelta una prima scelta l'unica scelta non la scelta di risulta la terza scelta ho fallito magari a trovare lavoro in altre lezioni che faccio il concorso o entro in classifica sì 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 con tutte le frustrazioni nel caso perché anche chi è capace viene svilito da questo sistema di selezione italiano adesso non apriamo polemiche no 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 polemiche sterili però sì però sì è una è una quindi anche l'aspetto ecco per esempio sorridere è un un trick di comunicazione che funziona ovviamente non è che uno deve diventare lo studente sorridente a cui poi qualcuno andrà a chiedere gli appunti questa battuta e vabbè solo solo i veri professionisti che colgono queste questi riferimenti però però comunque mostrarsi mostrarsi sorridenti non è mai non è mai male cioè il sorriso comunque è un'arma potentissima dal punto di vista significativo ti voglio interrompere proprio perché c'è una domanda in chat interessante dice nico nico lopez questo è il suo nickname da ansioso vorrei chiedere non può anche essere il tempo ristretto per una prova a causare ansia e conseguente pessima performance l'ho notato quando ho dovuto consegnare progetti fatti da casa da solo in squadra in cui ho ottenuto voti molto più alti o magari sempre a tempo ma con i libri aperti in cui sono più a mio agio cioè l'aspetto l'aspetto temporale ha una relazione con con l'ansia quindi il la pressione del tempo ma certo l'aspettativa che ci sarà dedicato poco tempo per esprimere quello che abbiamo fatto quello che abbiamo studiato crea un'ulteriore pressione un'ulteriore limitazione quindi un'ulteriore angoscia preventiva assolutamente però questo diciamo si può prevenire lavorandoci nel momento dello studio perché io devo saper comunicare quella cosa in modo estremamente analitico dettagliato frastagliato entrando in mille rivoli ma la devo saper comunicare anche in cinque minuti e questo è uno skill della comunicazione saper comunicare quella cosa in modo semplicissimo che è un modo molto molto analitico e mirato e ci si dovrebbe lavorare prima tra l'altro questo è anche uno di un altro ulteriore motivo come se non ce ne avessimo già avuti abbastanza per prendersela con il discorsetto usato come unico metodo di ripasso no cioè il mettersi a parlare all'infinito perché non non match minimamente la richiesta comunicativa dell'esame che all'esame non è permettete a declamare il libro così sì perché nel diritto privato costituzionale e cominciare non è così tu ricevi una domanda è per questo che io per esempio ritengo che possa essere molto importante fare delle simulazioni di dell'esame orale e curare la comunicazione all'esame orale ma farlo partendo da una base di testing cioè da una base di ricevo una domanda e rispondo alla domanda articolandola anche ad alta voce volendo è io in particolare consiglio agli studenti nell'ultima settimana prima dell'esame quando teoricamente hai già finito il programma io gli studenti che studiano col mio metodo sistema di ci e tutte queste cose meravigliose il consiglio che io tendo a dare è quello di lasciare una settimana finale per il ripasso e la simulazione ecco che allora in quella settimana si va con anche tutti gli aspetti comunicativi sicura la comunicazione ma non declamando a caso ma partendo da un contesto realistico come mi troverò anche perché un'altra cosa bella della comunicazione è che contesti diversi richiedono con stili e risposte comunicative completamente diverse cui rispondere a delle domande di un insegnante o fare una lezione su un argomento richiedono degli stili comunicativi degli approcci e una prontezza diversa e un registro completamente diverso quindi uno non è che può allenarsi nella comunica infatti una delle cose classiche che mi dicono è ma se togli il discorsetto come faccio io a diventare bravo a parlare ma non stai diventando bravo a parlare stai diventando bravo fare il discorsetto perché non è che la comunicazione una sola per cui se uno sa parlare bene parla bene no uno parla bene in un determinato contesto guarda il mondo della videocamera tu sei da 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 un po ormai da due anni entrato nel mondo così del dei video su youtube meno meno è un anno un anno era ecco e sei un comunicatore di mestiere non è la stessa cosa comunicare alla videocamera o comunicare a tu per tu o fare uno speech davanti a un pubblico o lavorare a teatro o sono stili completamente diversi quindi aspettarsi ingenuamente che fare il discorsetto e declamare ti alleni alla comunicazione per l'esame orale è wishful thinking direbbero gli americani che stai te la stai raccontando però no non è vero e qui rientra il quinto e ultimo errore comunicativo degli studenti non esercitarsi pensare che se so qualcosa sarà naturale riuscire a comunicarlo a spiegarlo invece comunicare è un'arte un'arte su cui esercitarci su cui diventare sempre più bravi su cui come in tutto del resto l'allenamento fa la differenza ora questo non vuol dire come anche anticipato diventare un simulatore seriale o comunichiamo io i simulatori teatrali quelli che quegli studenti che dicono no se se mi voglio sentire preparare questa devo simulare tutto tutto su qualsiasi domanda su qualsiasi argomento il momento dell'interrogazione e quindi iniziano è troppo è troppo e dopo mezz'ora di questa simulazione ok si va in confusione mentale perché si fa l'errore appunto del del ripetitore seriale no mentre allenarsi a comunicare vuol dire seguire l'idea del del testing cioè mi faccio delle domande comunico su questo argomento lo comunico in un modo specifico lo comunico in un modo come lo spiego a un bambino di sei anni come lo spiega un professore di 60 ok vuol dire ok l'ho spiegato in questo modo lo posso spiegare in maniera differente vuol dire allenarsi a comunicare quelle cose facendole passare nel modo più semplice e chiaro possibile ed efficace possibile questo è l'allenamento del resto la prima caratteristica un comunicato dottore efficace la semplicità questo è incredibile perché è andato di recente molto bene ripartito è andato quasi virale un mio video del 2019 in cui parlavo di come scrivere un tema il tema perfetto e perché è nato virale perché c'è l'esame di maturità e l'esame di terza media ogni anno ogni anno a giugno quel video comincia a fare un sacco di views no è una cosa che dico in quel video e che tanti studenti hanno dato il feedback ma l'età finalmente ho capito è ragazzi non solo non siete il manzoni ma non dovete fare il manzoni cioè non è quello non è lo scopo anzi più è semplice e meglio è più è chiaro e meglio è più e sintetico e meglio è non dobbiamo essere proprio puliti nella comunicazione e quella cosa lì funziona alla grande cioè lavorare anche di sottrazione perché aggiungere aggettivi a caso è facile e togliergli gli aggettivi c'era una frase che non ricordo chi l'avesse detta mi ricordo che qualcuno l'aveva attribuita a dante ma non sono sicuro che che l'avesse detta lui comunque era interessante dicevano che se tu devi usare più di due aggettivi hai sbagliato il sostantivo ed è ed è a mio avviso un una regola importante cioè se devi coltivamente aggiungere cose vuol dire che non è la parola giusta e questo questo è interessante questa sensibilità tra l'altro si acquisisce l'hai detto bene tu con l'esercizio l'errore di non esercitarsi noi però questa è una credenza diffusissima la credenza che comunicatori si nasca cioè che ci sono delle persone sono brave a parlare ma non è vero non è vero nella mia esperienza allora ci sono persone che poi per usare un termine un po psicometrico che hanno più o meno non lo so intelligenza verbale linguistica una capacità sensibilità maggiore per la scelta delle parole va bene ma l'hanno esercitata tutta la vita esatto ma se tu nasci con quella roba lì e poi non non la eserciti rimani comunque un drugo lo stesso drugo termine tecnico e ne parlavamo anche prima perché prima dicevi a che bella la struttura del di logonauti e facciamo la correlazione dal fatto che rick in quanto filosofo e teatrante aveva uno studio un po più formale dell'argomentazione della retorica mentre invece io sono uno smanettone della della comunicazione cioè sono uno che l'ha usata tanto 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 e ci si è anche ossessionato sui piccoli dettagli a me fa impazzire io per proprio per anni ho lavorato sulla singola parola ho ripetuto troppe volte cosa in quel video adesso la uso meno o uso troppo quell'avverbio in mente adesso lo provo a togliere faccio quel la smorfia cerchiamo di modificarla ed è un lavoro di fino e non può essere sostituito questo è il motivo per cui tra l'altro abbiamo detto anche nella presentazione lunedì del corso con rick il logonauti ancora nessun videocorso è fatto per la passività ma ha maggior ragione un corso di comunicazione perché la parte pratica e non è importante è necessaria se non si fanno gli esercizi e non si sta lì e non ci si impegna non serve a nulla cioè sentire persone parlare e dirti come si fa a parlare bene senza poi mettersi e sporcarsi le mani è completamente inutile non serve a nulla è tempo perso quindi esercitarsi 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 però ti faccio una domanda perché tu mai mai detto appunto giustamente il quinto errore grande comunicativo degli studenti non esercitarsi abbastanza che spazio dare però a questo esercizio nel senso che io come ti dicevo do come spazio di esercizio per i miei studenti da quando dal momento in cui hai finito il programma di studio al momento in cui arriva l'esame in quello spazio esercitare anche la comunicazione tu consigli di farlo anche di più perché il rischio che io vedo è che si sottovaluti finire il programma perché poi lo studio del programma è la cosa più importante di tutte no tu la esercitare sti anche durante la preparazione o solo finita la preparazione come di solito dico io sì nella misura in cui esercitare ciò che stai apprendendo è già comunicarlo a chi hai attorno e quindi raccontare sai sto studiando questa cosa ok condividere 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 questo è già un modo per esercitare il tuo sapere su quella su quell'argomento la condivisione sì è una cosa che devo essere sincero ho capito tardi per quanto riguarda il mio il mio percorso personale di studi ma ricordo benissimo che c'erano invece dei miei compagni che lo facevano in maniera ripetuta io mi chiedevo sempre vedi però sarebbe proprio interessante soprattutto al liceo questa cosa mi è capito che osservarlo poi già dall'università io sono stato un divulgatore della psicologia mentre la studiamo poi mi piaceva parlarne parlarne mentre mentre la studiavo con con amici parenti con tutti e quindi già questo mi mi ha aiutato sì 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 quello è importantissimo tra l'altro ci pensavo perché proprio stamattina giravamo un video che uscirà fra fra un po di tempo sai che noi giriamo i video con largo anticipo per i professionisti e veri professionisti per i professionisti noi dice c'è 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 dario che ha fatto una smorfia dalla regia come a dire è al sacana che mi fai i video di youtube perché dovete sapere che il nostro dario chiocchetta sommo videomaker regista content manager e tutto il pianeta monta anche i video e salva te letti per il suo canale youtube che dovete andare tutti a seguire e però c'è chi c'è chi dovendo lavorare questi video su youtube dove dove sono stili sono un po carenti ultimamente vero troppo lavoro è un altro mestiere rispetto esatto esatto scherzo scherzo però dicevo stavamo facendo questo video stamattina su consigli che davo a chi deve tornare a studiare da adulto magari studenti lavoratori cose di questo tipo e davo proprio il consiglio di parlarne e condividere anche con amici e eccetera a maggior ragione per uno studente lavoratore per due motivi perché lo studente lavoratore spesso è adulto spesso non è immerso nell'ambiente universitario e quindi rischia di sentirsi un po solo e un po distaccato è in secondo luogo perché purtroppo lo studente lavoratore non può necessariamente avere quella costanza di studio che hanno gli studenti a tempo pieno quindi magari passano diversi giorni tra lo studio di una di una lezione quella successiva e il fatto di intanto parlarne raccontarla condividerlo a cena col marito con la moglie con i figli con gli amici coi colleghi eccetera tiene fresca la memoria tiene fresca la motivazione come dire consolida che allena per l'esame quindi è un importante per tutti però secondo me lo studente lavoratore ancora di più forse va condivisa la conoscenza non va condivisa la paura questo le classiche frasi bartolettiane da tatuarsi tatuarsi sul petto è veramente così devi sapere che dario ultimamente cerca anche lui di fare le frasi le frasi effetto sì sì cos'è che detto l'altro giorno a parlavi delle delle agenzie di comunicazione poco poco serie e ha detto buttano i buttano i clienti in un tritacarne di incompetenza e io pensato questa frase avrebbe potuto avuto potuto essere veramente stata scritta da così sta 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 assorbendo questa capacità ecco o simone chiede una cosa interessante un consiglio essenziale per lo studio ad alta voce ecco tu come la vedi la questione del dello studiare ad alta voce del leggere ad alta voce a tuo avviso per la questione comunicativa funziona io poi ti dirò anche la mia ma volevo sentire prima te per esperienza poco è molto distraente perché va a sollecitare un'altra capacità mentale nel momento in cui noi parliamo mentre è molto più efficace nella lettura leggere nel silenzio sì però è ovvio che nel momento in cui io invece lo faccio dopo una prima lettura una lettura successiva e lo faccio per ripassare alcune terminologie per familiarizzare con alcune terminologie può essere molto utile verbalizzare è importante è una delle fasi del dell'apprendimento verbalizzare dei concetti nuovi proprio leggere invece così studiare ad alta voce non mi sembra minimamente per esperienza non solo personale ma dei tanti studenti che ho seguito in questi anni una modalità efficace tu hai avuto guarda ci sono diverse cose da dire allora innanzitutto la letteratura scientifica che ho consultato in merito non mi sembra dare nessun tipo di risultato positivo cioè non ho trovato non ho trovato né review né meta analisi serie che parlassero di benefici dello studio d'alta voce questa cosa che non ho trovato non ho trovato però in order velo nemmeno grandi studi che ne parlino come una cosa particolarmente negativa sembrerebbe essere abbastanza influente io quello che ho notato è che è veramente molto personale questa cosa cioè io ho notato che ci sono persone che non leggerebbero io per esempio non leggerei mai ad alta voce non mi verrebbe in mente ma neanche in mille anni e persone che invece ce l'hanno proprio come modalità di default allora non so se sia una cosa legata a come ti sei abituato da piccolo o a qualche altra qualche altra come dire predisposizione non ne ho idea quello che ho notato è che sicuramente sia più lenti questo non c'è dubbio infatti rallenta rallenta tantissimo questo l'articolazione esatto è oggettivo e poi in alla studio ti odiano tutto questo però una cosa che invece ho notato e adesso te la racconto questa perché non è lo studio d'alta voce inteso come lettura d'alta voce eccetera che però io non faccio ma l'ho visto fare da altri studenti e mi è sembrata una cosa interessante sono gli studenti che leggono a bassa voce ma reagiscono al testo cioè leggono il paragrafo dicono a cavolo questa è proprio una roba interessante se che non ci avevo pensato cioè come se dialogassero interagissero il mio mio caro amico alessandro lazaro che anche lui abbiamo lanciato il suo canale youtube di economia finanza eccetera è proprio solito fare così cioè lui legge questi articoli di finanza sui investimenti eccetera eccetera e poi intanto lo senti dire non è possibile non è possibile no no questo fondo non funziona parla con il testo ecco quella a me sembra una buona cosa perché è un coinvolgimento in qualche modo certo sì ma diciamo a poco a che vedere con la verbalizzazione o meno della lettura è un atteggiamento interiore di interazione è uno studio attivo che poi tu questo lo sai benissimo è il primo principio ok esatto litigare con il testo arrabbiarsi o sottolinearlo essere coinvolti è sicuramente un ottimo un ottimo modo un ottimo strumento perché è un po come come quando io consiglio per l'apprendimento delle lingue straniere tutti tutti gli esperti lingue strani del mondo consigliano di guardare anche i film in lingua eccetera eccetera ma io faccio un passo in più e dico metti in pausa il film e partecipa al dialogo dei protagonisti fai finta di essere tu in mezzo questo si sta parlando ti fa una domanda tu metti in pausa rispondi e prova così è quella cosa lì funziona veramente molto bene perché ti tiene anche molto attento no che hai bisogno di essere di essere veramente molto focalizzato per rispondere c'è manuel che dice secondo me usando un termine decisamente improprio adesso mi dirai tu io sono psicopatico e anche per motivarmi dico ama guarda che interessante sono proprio fortunato a poter studiare dai andiamo avanti credo che questo centri poco con la psicopatia da quel poco che ho studiato della di come funziona la psicopatia però forse voleva dire insomma si automotiva si automotiva si automotiva automotivarsi va bene non so se gli psicopatici si automotivino in questo modo non mi risulta avevo avevo un professore liceale tale achille con ame mitico ne abbiamo parlato anche strategico con gli occhi azzurri barba bianca sembrava zeus in persona sceso dall'olimpo e lui ci raccontava sempre oltre a terrorizzarci con il suo sguardo lanciando questi questi fulmini ci raccontava sempre di come si teneva un foglietto dentro al cassetto della scrivania quando stava studiando era professore di fisica matematica fisica stava studiando la teoria della relatività e ogni tanto apriva il cassetto forza achille e richiudiamo il cassetto c'era il biglietto detto forza achille esatto mi è rimasto impresso è un po un gioco con noi stessi no motivarci è fondamentale e sì 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 l'automotivazione jack fa una domanda tra l'altro in questa stanza con i fari accesi fa un caldo qui dentro è impressionante sto usando tutte le mie energie comunicative e non per non sudare in diretta come un suino ma questo va bene chiusa la parentesi jack chiede quanto la dizione influenza la propria comunicazione secondo voi cioè ha senso investire del tempo per migliorarla ti dico la mia jack poi chiediamo l'ottor bertoletti io sulla dizione non sono particolarmente fissato cioè io personalmente ho cercato il più possibile di togliermi la cadenza veneta la cadenza veneta irrompe nel mio parlato quando sono arrabbiato tendenzialmente quando mi arrabbio diventa un po più padovano però ho cercato di avere un di togliermi il l'accento forte però non mi sono mai interessato di dizione rick già già di più le abbiamo parlato anche in logonauti abbiamo fatto una lezione su questo però a mio avviso per quanto la giusta dizione sia una cosa importante nella mia esperienza non fa tutta questa differenza con la nella come dire efficacia comunicativa non so come come la vedi tu ma sono d'accordo con te perché secondo me c'è una capacità primordiale ed è la articolazione linguistica invece essere focalizzati sull'articolazione linguistica e quindi sull'articolare le parole vuol dire prestare attenzione al linguaggio allora esercitarsi nell'articolare poi influenza anche la dizione influenza anche la consapevolezza su sui propri ritmi sulle cadenze regionali e così via e questa secondo me è una abilità più di base ok prestare attenzione pesca invece che pesca esattamente esattamente articolare bene le parole vuol dire dare un peso a quella parola vuol dire starci in contatto vuol dire prestare attenzione e questa cosa comunica già di per sé competenza comunica già di per sé chiarezza mentre che parla in modo strascicato senza articolare bene tutte le parole ovviamente la scansione più importante il ritmo a scansione l'articolazione e linguistica sia proprio articolazione e già e quindi secondo me è più importante della dizione sì io appunto la dizione non dico che non sia importante dico che è meno importante di tutto il resto cioè è l'ultima cosa secondo me il buon comunicatore si interesserà prima poi anche di pronunciare correttamente le parole ma è l'ultima cosa è l'ultima cosa tutto il resto è molto più importante quindi io non ci perderei particolare tempo a meno che uno non debba fare teatro dove magari richiesta un'edizione perfetta oppure deve fare lo speaker del telegiornale allora ma anche lì francamente vabbè insomma però nel videocorso logonauti non saltate il capitolo che è comunque interessante sul triangolo sul triangolo vocalico ripeto è fatto veramente bene a questo non faccio complimenti gratuiti lo sai perfettamente come diceva dario prima infatti è per questo che ti abbiamo pagato no non è vero non è vero non è arrivato ancora nessun bonifico sbrigatevi sottrarrò lo stipendio di dario e lo altro vado con le ultime due domande e poi ti saluto perché so che tu sei stra pieno di impegni io sto morendo da caldo e quindi facciamo due domande e poi salutiamo allora fare il test vark sai che io non conosco il test vark tu lo conosci via rk vark e seguire la tecnica di studio più adatta a me mi potrebbe portare maggiore sicurezza oppure credi che questo test non debba essere fatto altrimenti potrebbe condizionare il metro di su di modo negativo stili cognitivi stili di apprendi lascia stare giuli allora ho fatto un video sugli stili di apprendimento la letteratura scientifica è estremamente scettica in merito estremamente gli stili cognitivi quelli basati sugli aspetti sensoriali sono stati completamente sbufalati quelli basati sugli stili di pensiero sono stati molto ridimensionati negli anni visuale bisogna ok quella ok ok sono cazzate gli stili di apprendimento sensoriale quindi quelli che dividono le persone in gruppi visuale verbale scusami visivo auditivo cinestesico eccetera eccetera sono stati ampiamente sbufalati livellati molto livellati sì quello che sappiamo quello che è vero di quella roba lì è che noi usiamo diversi canali per per imparare questo è vero è verissimo usiamo il canale visivo con l'uditivo eccetera ma quello che salta fuori è che non è non è tanto la preferenza o meglio ci può anche essere una preferenza ci sono persone che magari preferiscono una modalità di apprendimento ma quella preferenza è molto meno importante della del giusto canale per la giusta informazione mi spiego tu puoi avere una preferenza per l'aspetto visivo e imparare meglio con l'aspetto visivo perché ti trovi meglio ma se studi musica devi usare l'aspetto uditivo punto può piacerti quanto ti vuole vuoi l'aspetto visivo ma è l'informazione che seleziona il canale di studio più che la preferenza individuale e i bravi e tra l'altro tutti gli stili di apprendimento anche quelli più cognitivi quindi penso ai libri vari di di cornoldi di cesare cornoldi sulla scuola eccetera dove parla dei vari stili cognitivi eccetera la conclusione a cui arrivano tutti gli studi però qual è è che in ogni caso un bravo studente è quello che supera i propri stili e comincia a padroneggiarli tutti quindi il concetto è se anche fosse vero e non è dimostrato in maniera così accurata che esistono degli stili di apprendimento la cosa giusta da fare sarebbe comunque cercare di uscire dal tuo e abbracciarli tutti quindi proprio io classificare gli studenti in base agli stili a me non convince proprio neanche per un po ecco così scusate ho demolito questa cosa però permette però è una cosa che mi sta a cuore perché invece la storia degli stili di apprendimento è pervasiva ovunque nell'apprendimento efficace un po fuffo fuffo logico è veramente da prendere la pnl poi non ne parliamo allora christian dice meno 10 coccorili coccodrilli gommosi a dario sottoscrivo manuel chiede rispetto ai silenzi secondo me possono aiutare nel mettere enfasi su certi discorsi soprattutto quelli più emotivi più intimi silenzio importantissimo nella comunicazione e nel tuo lavoro come 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 si sfrutta il silenzio a livello psicologia ecco così mettendo in imbarazzo per esempio il silenzio è l'evidenziatore più forte delle parole quindi saperlo utilizzare dosare è fondamentale per dare enfasi o meno al nostro discorso tra l'altro c'è c'è un aspetto di carisma anche no la persona che sa usare bene il silenzio una persona che wow ok certo ovviamente il silenzio il silenzio imbarazza ci sono alcune persone che entrano proprio in ansia da silenzio e quindi devono riempire le loro interazioni anche amicali di parole 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 perché non possono stare nel silenzio mentre il silenzio è anche una forma di meditazione è una forma di ascolto solo degli altri di se stessi c'è un bellissimo libello che è l'arte di tacere della bate di noa che spiega come a volte il silenzio sia molto più efficace di mille parole io mi ricordo l'ingresso in scena in game of thrones di tywin lannister il capo della famiglia lannister che è uno che parla pochissimo e anzi la sua tecnica di esercizio del potere più efficace è stare muto e guardare in maniera estremamente severa il suo interlocutore e aspettare che questo si sciolga semplicemente sta muto domina il silenzio e poi quando parla dice tre parole secche e annichilisce no io per esempio su quello non sono a mio agio per esempio non sono ecco se dovessi trovare un uno degli infiniti difetti comunicativi che che posso trovare su di me non sono ancora un maestro del silenzio io tendo a volerlo sempre riempire un po l'horror vacui del silenzio e questo a livello di carisma secondo me è qualche cosa su cui ci si può si può lavorare perché essere più a proprio agio col silenzio secondo me aggiunge al comunicatore io invece questa cosa ancora non non l'ho sviluppata bene tendo a parlare un po troppo tendo a sono così un po logorroico è una domanda che ti ha innescato uno spunto di automiglioramento sì ma ne ho tantissimi però questo del silenzio è vero anche per esempio a me capita facendo un lavoro imprenditoriale mi capita spesso di fare contrattazioni di fare di fare colloqui conoscitivi o indagativi e il mio difetto più grande è che parlo troppo cioè magari e quindi in una situazione per esempio in cui c'è un dislivello di potere nella situazione in cui magari c'è una tensione contrattuale quello che parla troppo è il debole e io tendo a volte ha appunto esagerare raccontare troppe cose e magari l'altro serafico nel mondo del anche del proprio della contrattazione saper essere zitti ascoltare arte che sto cercando di imparare ora in silenzio dice andrea in giappone è considerato un grande valore qui invece parliamo del tempo quando ci incontriamo ma non dice io per esempio a volte cercando di costruire delle frasi fatte bene mi manca il respiro e qui cerco di concludere la frase il più velocemente possibile mandando a quel paese tutto e marione metti in chat per favore il link di leggere per sapere che lo chiedono il mio manuale di lettura efficace perché marcia non riesce a fare copia incolla perché da youtube ce lo toglie comunque se andate su alessandro del concili puntocom slash leggere per sapere lo trovate oppure se navigate sul mio sito tra le risorse gratuite trovate il manuale da scaricare quindi così il potere del silenzio mi piace questo cioè mette che dice credo che anche l'ironia abbia un ruolo molto forte nell'apprendimento quando la mia professoressa di storia ironizzava sulle faccende storiche creava dei momenti difficili da dimenticare oltre alla nozione si torniamo sulla l'idea del sorriso sulla faccia dell'udendo dell'utente potente ok 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 e via l'ultima 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 riccardo scrive mi serve un consiglio io ho soltanto fatto high school quindi probabilmente negli stati uniti poi non ho studiato durante dieci anni ma da tre anni sono tornato a studiare non sono in grado di trattenere la minima parte di ciò che leggo riccardo è assolutamente se non trattieni nulla di quello che leggi è assolutamente necessario lavorare sulla tecnica di studio e sulla concentrazione sulla lettura efficace e su tutto il resto insomma quindi leggere per sapere sarà l'ottimo punto di partenza o all'ultima faccio l'ultimissima domanda poi poi basta poi basta giuro che ti lascio andare come gestire e proporzionare le parentesi e le digressioni in un discorso questa questa è tosta io ti dico la mia bisogna tenerle a bada io tendo ad aprire le parentesi a non chiuderle più non va bene secondo me se dovessi darti una regola un consiglio sarebbe prima rispondi prima di quello che devi dire e poi aggiungi non so come la pensi tu sono sono d'accordo mi evoca una un'idea quando non leggiamo un testo scritto si apre una parentesi si chiude con la parentesi quanto dura in genere una riga due righe ecco atteniamoci a questa regola anche quando parliamo ecco parliamo come un libro stampato in questo caso solo per questa volta solo per questa volta senti un po allora vogliamo usare gli ultimi due minuti per parlare del fatto che fra una settimana esce il tuo nuovo videocorso e che lo presenteremo insieme mercoledì sera mercoledì sera facciamo una live speciale cosa abbiamo detto che ora abbiamo detto alle 21 alle 20 mi sembra le 20 alle 20 credo poi vi metteremo chiaramente un reminder eccetera ci vuoi raccontare su cosa sarà il tuo prossimo videocorso e così poi molto volentieri anche perché parlando di comunicazione c'è una cosa che annichilisce la comunicazione ed è l'ansia ecco la maledetta ansia certo e l'ansia ovviamente annichilisce non solo la comunicazione ma può creare tanti altri problemi il mio prossimo videocorso è proprio su questo è l'arte di gestire l'ansia ed è più che un corso come amo definirlo è un video percorso perché l'intento è quello di cercare di trasmettere alcuni principi e quindi alcune tecniche alcuni strumenti della psicoterapia breve strategica come quando si fa un percorso individuale di psicologia o di psicoterapia ovviamente un videocorso non può essere comparato a un lavoro individualizzato psicoterapeutico ma in termini di efficacia molto spesso soprattutto per problemi o difficoltà che rientrano in un visaggio medio medio basso moderato può essere efficacissimo molto molto più efficace e anche più efficiente perché ovviamente un conto è fare tanti incontri individuali un conto è seguire un percorso mirato parleremo fondamentalmente di tre tipi di ansia l'ansia per le sensazioni ok quando il demone interno noi siamo spesso a volte spaventati da quello che sentiamo entriamo in ansia per dei sintomi dei segnali corporei e questo tipo di escalation può addirittura se portate all'estremo portare agli attacchi di panico ma poi ci sono altre ansie che sono meno riconosciute è l'ansia da pensiero da rimuginio da dubbio è l'ansia rimuginativa anche il pensare troppo l'overthinking porta a sviluppare sintomi sintomatologie ansiose e poi c'è l'ultima tipologia di ansia che verrà trattata nel video percorso che è l'ansia catastrofista generalizzata quando si è catturati da questo continuo flusso di pensieri preoccupanti pre trattino occupazioni il vedere sempre il futuro negativo agita le nostre sensazioni ci fa vivere nell'ansia questi sono i tre principali cardini del video percorso e magari la prossima settimana mercoledì li approfondiamo ne parliamo e penso che sarà super interessante perché l'ansia è un tema che tocca tutti tocca tutti quindi veramente sono super contento di avere sono contento di aver dato inizio alla tua carriera di videocorsatore di videopercorsatore perché secondo me ne hai chiaramente tanti pronti per poter per poter aiutare così tanta gente che ne vale la pena veramente ti ringrazio c'è una cosa su cui ancora non mi sento bravo ed è fare marketing e pubblicità però una cosa non posso non dirla perché me l'hanno imposta vada vada ovvero per chi si iscrive si registra da qui al giorno dell'uscita che sarà il 7 ci sarà uno sconto speciale un'offerta premium del 25 per cento sul costo del corso ma mettiamo il link allora il link me l'avevi passato prima vero e io poi brutalmente me l'ero me l'ero perso aspetta un po ok non c'è ancora vedo se se lo mettiamo dopo lo mettiamo più tardi non c'è problema ma bene tanto poi comunque mercoledì ci saranno le persone insomma e tutto quanto che è uno sconto ovviamente migliore rispetto all'offerta lancio che sarà il 10 per cento di sconto bene bene quindi uno sconto ulteriore ci piace ci piace sempre perché noi gli sconti ci gustano bene 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 allora noi ci diamo appuntamento a mercoledì alle 20 dovrebbe essere alle 20 e poi comunque annunceremo alla community tutta la cosa io veramente voglio ringraziarti per aver dedicato ancora una volta quasi un'ora e mezza del tuo tempo a noi la settimana dalla tua scaletta dai pazienti un vero piacere è un vero piacere grazie 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 tra l'altro io io alessandro abbiamo pianificato fino alla fine dell'anno le nostre live con argomenti interessantissimi culminerà culminerà l'anno con un argomento che proprio sarà sarà di impatto di impatto e niente grazie a voi che avete come al solito guardato il nostro adc live grazie al darione alla regia noi ci rivediamo mercoledì prossimo per la adc live speciale con il dottor bartoletti e poi giovedì per la live futura che dovrebbe essere con ospite 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 quindi ne parliamo ne parliamo la prossima settimana vi darò qualche anticipazione grazie a tutti ci rivediamo in studente strategico se siete degli studenti bloccati logonauti se volete imparare a comunicare bene video corso appena uscito con rick to fair segnate eccetera eccetera e tutto il resto della nostra meravigliosa offerta commerciale perché noi siamo dei marchettari grazie grazie ale e a presto ciao ciao ciao